Ah la live Jimmy Pollo Ale 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 Volevo andare a vedere il titolo No prima di ho messo la musica Ora mi danno il copyright Cazzo Come si chiama il tuo canale? Jimmy Gamer Pollaccio Grimaldi si chiama Ya come si chiama Grimaldi il Pollo Moccappato 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 Ya come si chiama il canale? Pollaccio Gamer 89 Ya Jimmy Gamer come si deve chiamare? Vieni che è un tumore alla prova Vieni appresso a me Ah Ma Prima di ti piace questo titolo molto Ehm Quando sei iscritto Oh Attenzione Simone live commenta Grimaldi Grimaldi sei un gay Eccezionale Proprio lui Oh Attenzione Oh Attenzione Oh Attenzione Vai 3 su 4 Sì Escarese Dove stanno difendendo sti gay? No che cazzo ne so Ah sala dei bimbi Come Come che Salla tua Grimaldi La stanza tua La stanza dei bimbi Bravo Grimaldi Amon me la sion Amon me la sion Amon me la sion Attenzione I bana has found the objective Il mio inglese che lascia desiderare Dembele una tre finita Shhh Dice simone Il mio inglese che lascia desiderare Dembele una tre finita Shhh Attenzione Sasa Grimaldi Miracolosamente Non viene rimosso Dalla votazione Ricarico Copritemi Siamo Siamo Una panese hack Una zanentina 6 a 3 E' finita Salvatore Grimaldi Ora lo banniamo Non sto scherzando Non sto scherzando Attenzione No Simone Esposito è il moderatore Del più grande canale Di youtube Certo Simone Esposito è il moderatore Non mi scrive nemmeno guarda Ma lui adorai quando gli scrive Quello Simone è adorabile Per questo è il mio moderatore Allora ma scusa Io ho Quando ne hai un altro canale Dove hai rispito No Tu non fai solo questo Il momento Quanta gente sta vedendo l'album? Eh due Mi sa Uno se tu e l'altro Un altro simone No no Simone no Sennò già ti avevo bannato Se diceva Salvatore Grimaldi Cioè quando tu hai detto Sei 3 e finita Già ti avevo bannato Simone Non è Simone Simone è gay Eh ma guarda cosa fa Twitch Uno sguardo molto intelligente Ancora un drone E prova a sparare il pavimento Per fare gli headshot Attenzione Attenzione Simone è quasi the gay Oh Simone Rispondi Lo rispondi Ti do il permesso Bannami 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 Simone Bannalo Bannalo Bannaglielo tutto Oh Simone Bannaglielo tutto Oh Simone Bannalo Oh Simone Bannami Bannami Anche mi regalo Prendranno in corsa Non va Atenzione Rewind ma chi è questo? e fa inviterato da noi che siamo già in due ma chi lo sa story win primaldi e nabbo invitalo tu una via bravo il giro salvatore Guimai è anche una zona girata vai al canale, anzi lo segnaliamo e basta molesti contenuti commerciali indesiderati o spam pornografia materiale sessualmente esplicito incitamento all'odio o violenza esplicita ma che cazzo? bella bella ciao rewin ma tu vinci sempre eeeh perchè? boh perchè ti chiami rewin ciao grazie violenza esplicita e molesti e no coisci immagini e tieni un tumorello sei perchè non ti viene il cancro alla prostata? perchè non morirei? ma a tutti quelli che si chiamano sesegrimaldi gli deve venire il cancro alla prostata la poco uccido a come cazzo si chiama qua dammi un libera mentre finiamo questo e giochiamo rewin oh bannami il messaggio diatelo fatto attenzione è un quinto messaggio ma io non lo vedo e non si sa il perchè oh cazzo attenzione provano a killarmi cosa? cosa? se sa che mi ha il tumore pure jimmy e ne ho volbbero il gato troppo forte giusto 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 Ma perché stai facendo una live e non si vede niente? Eh? Perché stai facendo una live e non si vede niente? Che senso ha? Che significa non si vede niente? Ti giuro ma c'è schizzo a trasmissione e non è in avanzamento No, vedi che mi sta andando avanti Allora, come si chiama il suo canale? Ma perché tu la stai vedendo dalla Playstation forse? Eh, allora è questo Però ho un gopponessi hack in da zona girata Gopponessi hack in da zona girata Vedi che non si vede niente? Vedi che non si vede niente? Oh no Madonna, madonna, tutti gli angeli in colonna Madonna, va chi capisci, capisci, capisci di merda che ti ritrovo E' troppo forte Attenzione, che mira di merda Rimini può giocare in classificato dopo Anche ora No, dopo sta lì No, un gopponessi hack però lo devi giocare Se non giochi la classificata un gopponessi hack Rimini lo sa che cosa è l'S Ma che cazzo? No E' un motorino Non sa che cosa è l'S Della Honda E' un motorino della Honda, l'S Ok Immagini che tera tu sei Io sono degradato da Platino 3 Ex diamante No, Grimaldi, ex scavasagani, portieroni Non è vero, Grimaldi è mongoloio di merda No, Grimaldi Insomma, il massimo di Grimaldi è stato oro 3, oro 2, basta Ora 1 Eh, ora 1 ma non ti vantare Eh, vai a vedere che è di merda Eh, andiamo a vedere Allora, mettiamo la figura di merda Ma esceranno i 4 la scorsa stagione Ci giochiamo a 5 euro da fuori 6, DB Ci giochiamo a 5 pacari Eh, vai Faccio a te però Si venghi te donga te, si vinci tu te dai solo tu Trovate la posizione del contenitore di biorischio Sì Appoggio vissi andate Ma che faga non lo ti Sasa Grimaldi 28 PS4 ovviamente Scorsa stagione ragazzi Scorsa stagione Non risulta Nessun risultato Sasa Grimaldi Grimaldi Scorsa stagione Chimera Gold 1 Gold 4 No, non è vero Chimera Gold Gold Patato Si win Si win Bravo, bravo Grimaldi Ora ti do due pacari in faccia No, ri win Ma come fa? No, no, win Come cazzo fa? No, Grimaldi Era oro 1 Ma sei proprio un porco Chi era oro 1? Tu Vabbè pure io sono un po' di me Solo che mi scorcio di impegnavi Perché se mi impegno Eh, a fine per tutti Intanto hanno commentato la live Io non ho visto Sono uno youtuber di merda Infatti Non viro i live Quando cazzo voglio Io Non faccio video Normale Porcelino Ciao, ciao, riwin Porcelino Porcelino Rimagini Ma chi è tuo padre? Leo Vuoi rompere Prima che ti rompo la faccia? Grazie Ma un goffanese hack Da zona Grimaldi Lo sai tirare Una bella granatina Oppure qualcosa Per rompere i mute Per rompere i mute Grimaldi Non esplodere Madonna Grimaldi Ma sei proprio scarso Aspetta Non tirare le con Madonna Ma sei proprio scarso Non c'è porcelino Ha definito E' ruota Brava Ho capito Ti giuro Cato Voglio bene Sinsever Push aggressivo Grimaldi Cazzo Lo stun di ala Tornate la mano Ma c'è la Aspetta Aspetta No Stavo strunato Ma se E' una mamma E' una mammella Porco cane Il drop shot Menomale No Lesion Di tua mamma Il tumore è bastato Tutta 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 Alla Di tra La nave Non so Che Ucciso Ok L'altro Tutto Alla L'ho Visto Scaval Che push Non so La prostra Prosto Il godo Merda Che mi ha messo in ferito Godo Godo Questa Una mira Di merda A me Non ci Sesi Un Termite Giuro Casino Venge Surround Grimaldi Amore Lo giuro Guarda Voglio I Bens Infermati Se questo Non vincerà Tutti Ma nella vita Reale Proprio Quagrima Cacculo Mouk Cadire Vediamo se Rimini Stavore Live La mamma Di Rimini Ma Adesso Rimini Sulla Comuniti Comuniti Sulla Comuniti Sulla Posta Di Merda L'ho Conosciuto Sulla Comunità Va bene Mi ha invitato Nel party Rimini Merda Rimini Colera Sei la Rovina Dell'Italia Intera Rimini Qua Rimini La Ti face Il cazzo E si Sa A chiese Sagrimanti E che L'ha avuta Le mamme No Le mamme Non si toccano Rimaldi Mai più Capito Mai più Rimaldi Non ho capito Questa battuta Del Mai più Perché Gary Però vabbè Rimini Rimini No Rimini Quasto Sulla In line Rimini Detto più o meno All'incontrario E' in Rimini 10 secondi No Comunque non stai solo tu Life Stanno Due di loro Oh Hanno messo un dislike Anche a Rimini Oppure a Grimaldi Rimini Però se a Grimaldi muore stasera la notte di Natale Anzi no Ho messo un dislike Ecco Ecco Devo morire in un'altra notte di Natale Grimaldi ma se cambio il titolo no Ma dove ci stavo per fare edge shot Grimaldi vogliamo fare un nuovo sport Oh Si chiama fottitilico Brava Grimaldi Così si gioca Dai finiamo sto partito Mi voglio stare un operetto Operetto robo Guarda Grimaldi come ci tirano le flash di merda Io attiro le balene Io attiro le balene Eh lo sappiamo più mal di che ci diventa bene Infatti è innamorata tu Non mi prende niente manificato Infatti una tenta Bravo E lo fumo E lo fumo E dove c'halera di merda Infatti una tenta E lo fumo E lo fumo Ecco di io non l'ho visto A B B B B B B tra poco ti faccio fumare una canna è more oh puoi abbassare il volume della live della live non della io non ho la live sto sentendo la musica ho visto che è troppo forte ma metti una canzone descente l'ha fatto sul serio no ti prego non dirmi che lo rifà l'ha rifatto perchè che fa scusa non ci credo non ci credo non ci credo è una cosa che fa dai a cazzotti ma che cazzo fa la mappa è questa ma è la testa di cazzo questo ti morirà tua mamma se non mi riesci facciamo così prima di dici ok ok allora se questo vince il round tu vivrai ancora se lo perde morirai no già detto ok ti dispiace ma la prima non c'entra non c'entra il bastardo sono cintra bastardo can ma questo vuole fare esplodere ste cariche di banana oppure ma questa è una testa di cazzo guardalo ma quanto può essere scarso figlio mio sul biliardo guardalo ma quanto può essere scarso per tirare la flash mentre entri un attacco eliminata a va prima di te lo sei comprato sto peratore nuovo prima dove è andato a finire con la merda ma me la compri aspetta tu moro chi ti compra allora tu morello o zofia zofiam chi mi devo prendere? jagal, ying, zofia ok epi, finca, albe maestro jagal è il pedofilo no il piedofilo non lo so non mi convince tanto il giagallo vabbè è forte vabbè è forte jagal, ying, zofia oppure dokkaebi ma dokkaebi fa vomitare mi ha fatto del canoglio di serbia vabbè zofia scrivendo zofia dai io te la sei presa a bocchino si mentre metto i gesù i gesù crissi qua rotazione che devi mettere? la lmg è la lmg è la mitragliatrice si la palla come pablo pablo acog poi compensatore gill gill non l'hai bestennato? perché girendo mercedes oppure un da macchina nero devo mettere il compensatore non lo mettere vai tienici conto stai gli smal hm ma ed oggi rindo mercedes oppure un da macchina nero oppure un da macchina nero un da macchina nero sono uno, un da mercedes Agenda attorno ai sistemi, insomma un in due mercedi, un in due mercedi, un in due mercedi. Bravo Grimaldi, caffè d'ostro, hai visto? La mamma di Jimmy, dai. Sì, la mamma è Grimaldi, c'è l'ultimo ogni mattino. Bravo, zitti, ora dobbiamo vincere, concentrato. Certo, certo Grimaldi. Basta che mi, basta che mi lasci a barco con il scienziatore e scammerece. Ecco, bravo. Prenda la Zofia, prenda la zia, la zia, la zia Zofia. Zia Zofia, la conosce zia Zofia, signor Grimaldi? Ah, quella vittoria di tua nonza. La sarebbe si mette a fello pazzo, quella che fa, che sarebbe la vittoria di nonno. No. Ah, quella la, quella che fa, che la quando sono un po' per un po' per, e mamma ti capi la pensione. Ok, ok. Ah, c'è più o meno, ok, sì. Che poi, per non, per non dice, per non dice, nonno, ti dice mamma ti, che poi pigli la pensione. La sarebbe che la puttana e nonno. Ah, esatto. E' così dice. E' una cosa che dice. Trappando come Pablo, Pablo. I maldi come game. E' un po' per il basso. Sfera? No, no, sì, dai, però. Nel villaggio è entrata una, è una svizzera, che è cantata, è italiana, però bene, tizzi, a 19 anni, mi ha fatto sentire una nuova canzone che esce 3 del settimane, in inglese, è bellissimo. Poi, abbiamo una conizia che non ha iniziato a parlare, che si è conoscire a Gali. Ma di Sfera? Ecco, la nuova canzone di Sfera. Ah, Pablo. Che ne so, questa signora qua, che ti ha fatto sentire la canzone di Sfera? No, la tua canzone, la tua, che va avanti 3 del settimane. E chi sono caca? Ehm, ha un mer buono? Ehm, Grimaldi! Pensavo ad Aghiliamo Jimmy. Mi ricordo che è il racket. Esatto. Enormamente poi! Te lo ricordi, enormemente poi? Ho anche le mie tecniche facendo, ho vero sì. Io mi scoprivo, mamma, enormemente poi. Stavo per crepare al primo o secondo di gioco. Stavo prima di tu sì che sei un pro playa. Qua strana questa, no? Grimaldi non sparare, Grimaldi non sparare, e no, 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 no. O tu lì c'è già dentro. Oh, maestro, l'ho irritato, ti ho tirato il trick. Quattro colpi, no, dove c'è. Aiaia! A tutta le mamme, direte che c'è stato il processo. Morto Twitch. Rimagli, non prendi, non andare davanti. Boom, ha fatto quello. Rimagli. Gnogno. Ah, ci sto perimento su, ai l'agnogno. Come cazzo lo sento io? Come cazzo lo devo chippare, quello strontolo di me. Ciao, Grimaldi. Ciao, Grimaldi. Assist! Non ci credo, non ci voglio credere. Sto finito, spinato di merda che non mi fa muovere. Sta comunque, è là, là, dove sta mirando tu. C'è la cosa che è andato dalla porta. Ciao, Grimaldi. Ma tiragli i buffi di Zofia, là, della pedofila. Petrolifera. Grimaldi, sei una nava petrolifera. Grimaldi, line. Grimaldi, grimaldi l'occhio del mare. Tiragli la granata di Zofia che salta l'occhio del mare. Eh, dove sta? Sta sopra la macchina, la macchina. Sopra la macchina, lo vedi? È là, GG. Oh. Non si è rotto. Ahah. Lol. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Chi mai ti ha fatto un disegnino? Ma faccio un'immo. Ah, mi dico, no. Ah, ah. No, 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 no. Sì. Madonna, però. Ah, si sono uccisi a vicenda, non ci voglio credere. Wow, comunque, questo round ho fatto tre assist. Prova che io ho hitto la gente, però non mi muore. Ah, non mi ha mai suddere. Ah. È tutti muti. Fa così che Grimaldi perse la sua speranza di vita. E quindi È stato zitto Per nove anni esatti. Dopo nove anni Grimaldi si risveglia Facendo un... Da, Grimaldi, da gli stai canzoni. Da, Grimaldi, da gli stai canzoni. Da, Grimaldi, da gli stai canzoni. Di maldi, se mi danno il copyright, poi ti banno la mamma. Ma Grimaldi è certo che quello che ti può sentire stai canzoni di malda, eh. Oh, la botola, Grimaldi, la botola. mannaccia grimo che vado io che sono ecco vado io vodo golo con te toni tubo regna il silenzio d'ore alla b star proprio anima triccio lecce di 417 poi entrano nella correnta parte in realtà sono una finestra non mi do fado sopra capitano dove sta capitano non mi do mannaccia hai rotto il cazzo per i miei meriti stanno tronando e grebo ma sta fitto sopra nooo sta cambiando la fine addirizzo dietro ma non mi capitano del cazzo capitano sta la stanza vicino al cammino capito in posizione guardate la nuova o campo la coglione è bastardo dai cimmi campano mi ha visto ma ti si vede la mia coglione eh si mette la mia amica ok sei così oh prima controlla mille il primo trono si che mi si riuscì aia mamma dai dai l'ultimo capitano viene dalla cammina ti guarda il drone siamo a 15 ok eccolo eccolo no le fa era le fa era ma dall'altra parte dall'altra parte dall'altra parte dall'altra parte l'altra parte no gg grimaldi pam sente chi spacca e subito spara la 100 100 signori sensibilità credibile eccezionale si è andato bene che era baricata la porta se no eri crepato già vero 2 kill per lo scarsone di turno 3 kill io ah ok meno male pensavo che ero io la scarsone di turno qui stavo con il libanese stavo con il libanese stavo con il libanese trovato il contenitore di biorischio chialala lascia chialala segna per noi dai tu botoni stai in cucina come? segna per noi oh grimaldi segna per noi gonfia la leite che cazzo è la bottiglia d'acqua la leite gonfia la leite che compie dici compia la lette non per la rete non via la bottiglia d'acqua frizzante rimaldi è vero che ci facciamo d'acqua frizzante no al massimo dubbio io mi faccio la vota ma che fai rimaldi casi ricchi e dj bomba me la musica ma che fa con vaga tu si rischiona sicurano limona che ci piace o pesciolone ma grimo di pronunciare per il solone ora amore perché non sta tornando panetteria iayao e blackboard porco in cilio perché nella vecchia panetteria iayao quando è buona zia topia che voleva fare alibio e cazzo non è in saggimi alibi di là perché di last al mute quando cosa stai mettendo cazzo rimaldi dillo prima no rimaldi il mio cazzo non sono non sono non sono di cosa porco miuto dove è su scale da dietro ma dopo la vita il cane per un cane di merda black per il cane prima no no prima di statuto a destra dietro il vagone prima dietro il bambino se lo fa il bambino non è vero ma prima di se prendiamo il round significa che tu non mi abbatte ragazzi tragato bello per gli attaccati i morti 4.000 per il pro ragazzi ehi dj pompa me la musica come a gusto solo conmigo è così ecco assaggiato colpa di grimaldi dai grimaldi ti lo produco se vai dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio difendete la stanza e dj ma lo sai quale è prima di seguire oltre canta ma lo sai quale è la scuola del culo la nocerina lei è la squadra del culo è la nocerina ma lo sai quale quale è la squadra del mio cuore la maganese e non la lascia ma la pariata poco a con g non lo non lo si può rimanere un ufficiato ce l'avrà baricano voglio consumate testa di cazzo se non già no rispi ma solo io so fare il frisco oltre meglio una testa di minchia ma posso buggarmi tipo in qualche modo facendo no ah così non mi piace non così ciao ragazzi io sono stato a grimaldi mi piace il pestolone quello del negro principalmente poi grimaldi te l'ho stunnato ti ho salvato la vita ti ho salvato la vita perché è un talento non ti ho salvato la vita io ho saluto la craftsman c'è mica poco rimase volto ora muovi meno uno di quattro da dove no non ci voglio credere prima sta in ferimento sempre rimando questo santo primar di vinci per noi dai 14 di vita non volevo fare un cazzo io non capivo da dove mi sparavano cioè lo sapevo che stavano la però pensavo che stavano giugno perché quello sto sempre la non si alza mai questa è una trappola di prosto imbana imbana stava ferma a terra e lo spottava nella trappola di forro sto è solo nella prosto che le luci come ne uscirà l'acere da questa situa è già fatto il contenitore di rischio è stato individuato o o o o o o o non l'occhio di oggi di un centro dell'asolo io non sono contento ma che cazzo con l'anno di scrivi no no l'escofesco un porto no non mi fai a morire c'è una porca il giro no ha fatto uno spunghi lì porca il giro vai pollaccio ti copro io vai che mi copri tu prima che ti è passato uno davanti e non l'ha visto no no io dico prima se c'è qualcuno da questa parte se si stava prosto sotto finestra dai se non muore capo cancro cosa c'è pure dov'è di santa testa lei si è natale a jager tutto comprato a destra però l'ha curato già ma la è tutta a destra può scegliere col punto uno se non dato è un'ottima prima c'è 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 bene perché non lo so io no l'ho ucciso l'altra se ci devo dire che era prima se c'è c'è tutto tutto prova a droneggiare vediamo un po' che droni di rinmerterMS fanno un po più avanti il dono un operatore alleato rimasto fai il dron è un po più avanti stai zitto cazzo ma se sei scarso non è colpa migliore ma se ti non ti stai zitto ma dai ma ti sei fatto fare avevi lago che ti sei fatto fare avevo lago che tu dici stai io vai te avanti uno che busceva da sinistra non capivo ma che busceva da sinistra che sta in obiettivo lo vedevo io col drone tuo stavo correndo allora uno non è pare che stavo fermo no sfidati ma fidate che c'è il cazzo piccolo ce l'hai piccolo 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 e c'ho di merda bastardo e gini e la di merda su piace il cazzo ooooh 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 ma sai che andrea 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 gamer è entrato a far parte dei d1 chi è andrea gamer andrea 204050 yes poco lui yes dei d1 chiara non c'è il clan di mattia maranti 10 wow che privilegio il clan di mattia vuole andare anche io la vero per il percorso noi il pop allo matti che ci sta a fare ecco l'impatto amara mattia a mattia se a i d1 che originalità che poi esistono già i d1 mi ha preso il bello ma io ma mi sono fatto il clan di rembo prima ho già fatto tre squadre a modo domenica facciamo l'est c'è sa via no non ci stai e ci sono requisiti ben precisi cioè minimo di nutre per due stagioni ma mi scoccio proprio quando non gioco col clan io gioco male ah ma io devo ancora tirare i droni yukai ecco che cosa dovevo fare mi dicevi io mi sto scordando qualcosa il bastardo lotta da ultras prima era piccolo geni l'altro da ultras solo è il climato di bastardo forse non armi allora questo direi porco cane ma quello mi aspettavo alla propria stronzo di merda di un blackbeard matteo zofia zofia entra da qua prima è guarda non trova l'eco che coduria rimattando per la trassa vicino la porta prima sta vicino la porta 8 spot non lo riesco a spettare qua 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 spot è uscito fuori finestra fuori finestra scuro riposare vai sono la prima con la fortuna che teniamo i temi st sc cortino nuovo porco di nuovo acqua piccino ma che fai vicino qua entra poi si cazzo si babbo di unica sì no il silenziatore che cancro ah il cancro pablo pablo i macchini cuore di merda sono sopra tumorello tumorello stanno in trenini tumorello tumorello e ma come facciamo tumorello tumorello no sono in trenini ho scoperto un nuovo glitch no 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 si che capata che pariata quello quel drone nemmeno ve lo possono distruggere wow quanto godo si spera oddio sto parlando glitch addio vai vai a vedere vai a vedere il mio drone qui vedi sta nelle ringhiere del treno come hai fatto praticamente guarda un attimo il drone guarda no me l'hanno rotto perché mi son mosso devo usare quella cosa quella la è aperta e chiusa come la mamma dai ma prende a me prende a me ma quella voleva fare a me ma quella voleva fare a me ma quella mamma è morta da mamma ma chi ti dirà queste cose che devo fare ah bella signora come la mamma ma non sta la torretta del maestro no alia non ci credo io dove incoglio sapere dove tumore bastardo pablo pablo dai cimmi dai un cancro cimmi è un andrea 2004 050 andrei ma oggi mi dovete uscire una piccola gemmi non morire non rimane quando cazzo può essere scarto ma quella della marina è la madre chi deve oggi mi erano finiti i colpi non era come l'acqua in acqua sì però sto twitch è guarda si ferma a fare le kill cioè si ferma a rianimare posso di andare in obiettivo di uno andrei il natale il sistema natale da questo dobbiamo vincere sto round ecca la fammi fare una grattata ora sai che io sono stato platino tre per tre stagioni sì sì proprio jimmy sei riuscito in questa partita posso entrare nel tuo clan che è già mai lì sta in esecuzione sta facendo con l'audio è invece di mare andrea è entrato nel g1 è felice è affermato il contratto ha passato anche le visite matica anche se fanno nel clanno di mattia marano con c'è una cosa pariata il tuo blocco del gruppo capo wow attenzione è un gruppo su alzappo raga non ci credo attenzione oh ma è capo clan Matti Matti ha non c'è mai lì e bruciò culo ma che cazzo me ne fotti se mi hanno fatto entrare da loro significa che sono forte tu invece ah giusto aspetta però aspetta aspetta se c'entrate in un clan in cui un allievo è più forte del come si chiama del capo beh vorrei dire ma che c'è il secco perché oclamata nero clown oclamata nero live no no va bene nel senso che non l'allievo io ho detto non l'allievo per dirti però dico il membro se il membro ha fatto la prossima di Anna Gianmarini mi piensa atto fa strobara annamorata da voi è stata conneccia maron ha fatto un po' ho detto cosa mi ha fatto un po' lucernario che l'oricchione in merda meno male che lo sai che sei lucernario non sa ti ho fatto il compo con lucernario com la mamma amm oltre gli spiegano fatti già mai rileva no aspetto a me modernati e ma lo piacereva urlare che li tengo mutati perchè voglio capito dove arrivano sti qua PORCO I- il nemico sta prendendo il contenitore shhhh sta zitta cini vado a vado no no vai parto parto dov'è sto giu ben di vado a 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 vado proteggete il contenitore Oh, oh, spottaglielo Grima, spottalo, è il primo drone di ECO. Grima, spottalo, sì! Padra d'attacco eliminata, missione completata. Che hai detto di stupro? Ah, ho capito. Sto vedi che c'è il drone, eh? E' in ucce. Eh, è in ucce, è innamorato. È vero, Jimmy, confermi. Cosa? E' di una c'era tua fidanzata. Hai trovato il drone, Andrea? Ah, va bene. Quello, Andrea, sai perché sta andando bene? Perché io non gli ho detto il nome ai miei amici che vogliono fare una faccia di qua. Eh, tu scherzi, aspetta, aspetta, tengo un mio amico che praticamente tiene l'opera, cioè non l'operaio, gli amici che lavorano negli steward dell'enjoy. Quelli là che vanno tipo... Andre, come si chiama la biscotti che ci vuole? Andre, è Jimmy che si è aggraziato perché i suoi amici ti volevano picchiare, lei non gli ha detto il tuo nome. Ha detto, digli il nome così Andrea gli fanno facci di qua. Va bene, allora moglie lo... Oh, domani chiede la tua... Anzi, ma subito glielo vado giù. Poi se ti trovi gli steward sotto casa non è colpa mia. E ci mutano, Jimmy. No, dobbiamo giocare ci mutano dopo. Ha detto che se ti trovi gli steward sotto casa non è colpa sua. E muori... Dal momento all'altro. Non è colpa sua. Hai detto Andrea che a Bosco 2 per tutti i commenti dove ce l'ho conosciuto. Ma che da fa? Ma bo, sai, ti senti prima non pensavo proprio per là. Hai detto che mai mai guardi, sono meno che non stessi, sono poco pizzi. No, tu vazzi. Andrei a D1. Ti stupro? Eh sì, ti stupro. Oh. Oh, mamma mia, Carmelo. Io mi sto a stare un po' che zitto, no, lo asci sto. Ah. Sì, sì. E' un maron. Oh, non so se più tumorello Andrea o quello contro. Ah, succhia le palle. E' un'altra cosa, non so se più, non so se più, non so se più, non so se più, non so se più. Capgan a 25 HP. Andrea, Andrea, è stato citato. Daì. Oh, guarda Blackbeard, vai a vedere dove sta Capgan. Vedi, vedi come dobbiamo perdere noi per colpa dei cangretti? Stanno praticamente, sta in basso a sinistra del bambone, in basso a destra, scusat. Camera di una click. ma si sdraia lo sguardo guardalo che tumore di merda bravo rador di posizione no cg no ma sei un coglione ma sei un coglione mi ha perso ma non vedere il capo no no il capo che l'ha rotto ecco su platino 3 5 kg argento 3 gas e zitta grimonti